Mariano, parliamo di politica, politica seria, le elezioni a Roseto, avete l'accordo ovviamente con Nunes? Assolutamente no, non c'è nessun accordo ad oggi, perlomeno è chiaro che il centrosinistra inteso come partito democratico, naturalmente degli accordi li dovrà buffare, non è che ci si può naturalmente presentare da soli e quindi di conseguenza nelle prossime ore, nei prossimi giorni sicuramente ci saranno evoluzioni che non avrò problema, come ho sempre fatto, a dire e anticipare anche per simpatia a voi. Mariani, parliamo di politica, di politica seria, l'amministrativa a Roseto, il ballottaggio tra Nunes e Ginobili, avete l'accordo con Nunes? Questa domanda per me è scontato, ho visto la risposta simpatica di Ginobili, che comunque non ha perso il senso dell'umorismo, che è importante, naturalmente per affrontare una campagna elettorale, siccome non l'ho perso nemmeno io, vorrei rifargli una battuta, visto che solo quelle possiamo fare, visto l'offerta politica che c'è in campo in queste ore, e gli vorrei dire che è vero che io non posso dare elezioni a lui perché ho perso il mio paese, è vero pure che dopo che lo abbiamo fatto votare a Campi, lo abbiamo portato in Parlamento, i camplesi naturalmente non ci hanno voluto votare più. Avete detto a Di Girolamo che avete l'accordo con Nunes? Con il sindaco Di Girolamo io non ho interlocuzioni politiche da tempo, da quando alla Ruzzoreti lui si è allineato su una linea contraria a quella del partito, io gliel'ho detto molto tranquillamente che non condividevo questo suo atteggiamento e che questo suo atteggiamento naturalmente alla fine lo avrebbe portato ad una sorta di isolamento perché Ginobili lo avrebbe abbandonato e questo è stato. Mi spiace perché Sabino Di Girolamo per me rimane una persona molto preparata, una persona che comunque andava sostenuta lealmente, probabilmente da parte di Ginobili e Ginobiliani, anzi sicuramente non ha avuto quel sostegno leale che si aspettava. Non ha parlato di Paolo Gatti? Paolo Gatti non fa più politica, quindi di conseguenza lo avete detto voi, prendiamo per buona questa battuta, mi viene da sorridere, però lo vedremo, lo vedremo in campagna elettorale come ho detto più volte quando ho fatto pronostici molto semplici, sono pronostici diciamo molto facili, lo vedrete in campagna elettorale perché io ho notizie che già ci sono come dire azioni e tentativi di convincere candidati per fare liste a supporto di Ginobili, però lo vedremo nelle prossime ore sicuramente questo.